Nella venticinquesima domenica del tempo ordinario, noi ascoltiamo una parola che ha dato molto da faticare a predicatori e ascoltatori. È la parabola dell'amministratore disonesto. Noi capiamo poco questa parabola di primo acchitto perché ci chiediamo dov'è la soluzione della storia. Come mai un padrone chiama un amministratore che è accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi veri, gli dice rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. Allora l'amministratore a quel punto, siccome non gli va di zappare e si vergogna a mendicare, si fa degli amici. Come se li fa? Prende i debiti del padrone e li scala ai vari debitori, prende i crediti del padrone e li scala ai vari debitori facendosi così degli amici. È proprio un metodo profondamente disonesto quello di usare i beni del padrone in questa maniera clientelare per cui ci si fa amici. Il padrone viene a sapere questa cosa e loda l'amministratore disonesto, aveva agito con scaltrezza. Il testo non dice se lo tiene nell'amministrazione, però dice che ha agito con scaltrezza. E c'è a questo punto questa parola enigmatica. I figli di questo mondo infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Come possiamo intendere questa parola? Ma a questo punto il testo dice esplicitamente Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. È tradizione della chiesa, della fede cristiana, che i portinai del paradiso sono i poveri. Quando ci presenteremo davanti al nostro Signore, chi ci farà entrare o non ci lascerà fuori sono tutti quei poveri che abbiamo aiutato o che non abbiamo aiutato. Ci sono altre parole in questa chiave, logicamente. Però è interessante. Coloro che hanno le chiavi del paradiso sono le persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Aver aiutato o meno le persone, farsi amici con la disonesta ricchezza. Beh, siamo dentro una cosa un po' complicata. Vediamo un po' di capire. Finirà il testo con una parola molto seria sul servizio di Dio che si oppone al servizio del denaro. Non possiamo servire Dio e la ricchezza. Allora, ci sono state interpretazioni di vario genere, blasonate, molto serie. Per esempio, si è studiato che al tempo di Gesù gli amministratori di questo genere non avevano uno stipendio, ma avevano una percentuale su tutte quelle che erano le trattative di ogni genere. Per cui l'ipotesi sarebbe che questo amministratore azzera quella parte di credito del padrone che era la sua propria spettanza. Quindi, rinunciando al suo guadagno, si fa degli amici. È una bellissima interpretazione. Probabilmente anche vari numeri per essere abbastanza reale. Ma il testo non parla di questo. Se impariamo l'arte di stare attaccati a quello che il testo ci dà, senza andare troppo a costruire su dietrologie che tutte le volte ci lasciano piuttosto incerti, perché magari sono molto probabili, ma certe no, siccome non possiamo fondarci su una incertezza, andiamo a vedere un fatto. Al di là di questa bellissima interpretazione di altre fantasmagoriche interpretazioni meno accreditabili, di fatto questo uomo cosa si mette a fare? Rimette i debiti. Fa sconti ai debitori del padrone. E il padrone loda questo atteggiamento. Bene o male, i beni del padrone, se questa è una parabola, e se questo discorso finisce con la storia della contrapposizione fra Dio e il denaro, e c'è anche questo testo sul fatto che i figli di questo mondo, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce, ovvero sia c'è una logica dei figli di questo mondo che viene messa in opposizione a quella dei figli della luce, dobbiamo un po' capire. Ma cosa sono i beni del padrone? Se il padrone è questo, se da una parte c'è la ricchezza che è il denaro, e dall'altra parte ci sta Dio con le sue ricchezze, e qual è la ricchezza di Dio? La lettera agli Efesini, al capitolo secondo, al versetto 4, dice che Dio è ricco di misericordia. La ricchezza di Dio è la sua misericordia. L'amministrazione che noi siamo stati inviati a tenere, nel Vangelo di Giovanni, per esempio, è proprio l'amministrazione della misericordia, del perdono. «Ricevete lo Spirito Santo», dice Giovanni XX, «coloro a cui rimetterete i peccati saranno rimessi, coloro a cui non li rimetterete resteranno non rimessi». Ovvero sia, quest'amministratore capisce che l'unica salvezza per lui è iniziare a rimettere i debiti, è iniziare a usare i beni del padrone secondo la logica vera del padrone, che è quella per cui quel che conta è la misericordia, non il denaro. Di fatto, potremmo dire che questa parabola è un immenso midrash, come direbbero i nostri fratelli ebrei, cioè un'immensa spiegazione narrativa attraverso una parabola di un testo dell'Antico Testamento che dice che «l'elemosina copre una moltitudine di peccati». Qui il problema non è essere perfetti, ma avere perdonato tante persone. Noi non riusciremo a aggiustare tutto della nostra amministrazione. Sappiamo che su tanti punti chiunque di noi ha tanto da essere rimproverato, ha tanto da correggersi. Sappiamo che alla fine i conti non torneranno mai. Come salvarsi? Rimettere i debiti, abbassare le pretese, tagliare i conti. Questa è la nuova amministrazione. Cosa significa servire Dio e non la ricchezza? È molto importante. Qui c'è qualcosa che abbiamo anche, diciamo così, dimenticato molto spesso. Cosa vuol dire servire Dio e non la ricchezza? Che la ricchezza deve servire Dio e non il contrario. Ovvero sia che il denaro serve per amare, serve per perdonare, serve per aiutare. Qui non si tratta di non guadagnare o non so cosa. Dipende dalle condizioni, dalle chiamate e dalle missioni a cui Dio ci ha convocato. Ma si tratta di concepire il denaro come al servizio della volontà di Dio. Noi spesso per ansie di denaro siamo diventati amministratori ferrei e dobbiamo ascoltare anche gente che pur se si professa cristiana mette come un assoluto il discorso economico. Ebbene no. Ebbene sappiamo che tutta la realtà economica o è finalizzata all'amore o è un grande inganno. È la porta di una grande vuotezza, di un grande fallimento esistenziale. Ecco, questo amministratore ci insegna la strada anche se è un parallelismo paradossale, quasi divertente. Cancella i debiti. dice al mio cuore questa parola rimetti i peccati, azzera i crediti che puoi vantare perché questo ti apre le porte dei cieli.